Kevin Costner, il famoso attore americano per eccellenza, di recente avrebbe fatto una vera e propria rivelazione a proposito della principessa triste, ossia Lady Diana, Lady Diana Spencer, la moglie di re Carlo III. Infatti Kevin Costner avrebbe dichiarato che, a suo dire, Lady Diana, la principessa triste, aveva una cotta per lui, una cotta verso di lui. Sarebbe stato il figlio William a comunicarlo proprio a Kevin Costner e tra l'altro proprio lui doveva girare il sequel, quindi il secondo capitolo di The Bodyguard, il sequel di questo bellissimo, nonché incantevole film, meraviglioso, pericolo. E' stato lo stesso Kevin Costner a fermare tutto questo rivelando che aveva conosciuto la madre di William durante un premio Oscar per collaborare al sequel di The Bodyguard, il famosissimo film che portò nel 92 Costner aveva una grande fortuna e intervenò con Whitney Houston. Va bene? Insomma, sembra proprio che Lady Diana era cotta di Kevin Costner. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video per me, a cosa le pensate voi? Fatemelo sapere, ovviamente questo video non vuole lei dare la previsi di Kevin Costner e di Lady Diana, ma solo informare sto per lasciare questo video non per altri motivi. Ciao a tutti! Ciao a tutti!